Sono contrappesati, hanno dei più pesi, forse questo peggio non c'è peso, allora non c'è il peggio per andare a niente, sono un po' più contrappesati magari di quelle del progetto. Ma che c'è la bagna, Pani? Boh, andiamo oggi da Tommaso. Ma ciao Tommaso, Tommaso. Oddio, mette dodici? Va benissimo. Mette dodici, va bene. C'è un cinque, eh? Ah, mi senti scendere. Vai, vai. Anche può bella così, va? Sì, c'è che è più un dio, no? Ah, è vero. Sì, vado bene, adesso qui. Sì? Sì? Sì, vai via, svegliendo, svegliendo la bocca. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.